Il 19 settembre del 1977 nasce a Venezia Tommaso Rocchi, uno degli attaccanti italiani più prolifici degli anni 2000. Cresciuto nelle giovanili del club della sua città e successivamente nella Juventus, l'attaccante consacratosi poi con la maglia dell'Empoli conquista la prima convocazione nella nazionale maggiore all'età di 28 anni sotto la gestione tecnica di Roberto Donadoni. Il 16 agosto del 2006 l'Italia affronta in amichevole la Croazia poco più di un mese dopo il trionfo ai mondiali. Il debutto di Rocchi coincide con la prima panchina del Neo City azzurro che lo tiene in considerazione anche per il test match del 15 novembre con la Turchia e successivamente per la gara di qualificazione agli europei contro le isole Faroer. Escluso dalla lista dei convocati di Euro 2008, nella stessa estate il Bomber, passato quattro anni prima alla Lazio, partecipa come unico fuori quota con la nazionale olimpica di Pierluigi Casiraghi alle Olimpiadi di Pechino. Un'avventura nella quale Rocchi lascerà il segno realizzando un gol contro la Corea del Sud ma che dovrà abbandonare con troppo anticipo a causa di un infortunio al Perone.